Si mantiene costante l'andamento epidemiologico in Puglia, infatti nella giornata di martedì 9 novembre si sono registrati 241 nuovi casi di Covid su 22.230 test, una persona è deceduta. In provincia di Bari sono stati rilevati 42 nuovi casi, in provincia di Foggia 26, in provincia di Bat 19, in provincia di Lecce 39, in provincia di Brindisi 23, in provincia di Taranto 89. Sono 3531 le persone attualmente positive al Covid-19 in Puglia, 152 le persone ricoverate in area non critica e 19 persone si trovano in terapia intensiva.